Ci vuole un po' di tempo per togliere la cadenza di elettare, ma sei molto migliorato. Insomma, mi sta riuscendo a quando hai cominciato un mese po' di assente. Cioè? Buonetizia, è tutto a posto? Sì, è tutto a posto. Che succede? Fatti i cazzi tua. Ha salvato il figlio di un pezzo grosso dell'andrangheta, quella gente che non dimentica. Ora per me sei come un figlio. La tua paga deve essere adeguata. 200 all'ora. Facimo 300. Qui noi siamo una famiglia. Allora mi sa che lo devi chiamare pedrino, amore. Io non sono capace di fare male a una mosca. Fino a quando la mosca non mi rompe i cogliona. Questa qui che è la sua patente? Certo, è mia. Tra tre mesi. Il bene triunfa sempre. Sei dai tuoi amici mafiosi. Tu sei diventato uno di loro. Io vorrei interrompere le lezioni con Mario perché non ha più bisogno di me. Che cosa sta succedendo? Avete sbagliato casa? Sì, sì, lo diceva pure Pablo Escobar. Uno di famiglia. Tanto ci vediamo, becca scappi. Scappo, è dove? Dal 25 ottobre al cinema.